Buonasera raggiascoltatori di Radio Free Station, sono Silvia Mangione, sono a Cremona per il Mondiale Superbike e questa giornata per me è magnifica. Danilo Petrucci, gara 1, non se lo scorderà mai per tutto il resto della sua vita. Il Ternano al Cremona Circuit ha conquistato la sua prima vittoria nel campionato del mondo Superbike. Danilo, sei il numero 1, grande, grande, grande. Il pilota numero preceduto, le due Ducati ufficiali di Niccolò Bulega e Alvaro Bautista, è stato il primo pilota a vincere in MotoGP, World Superbike, Superstock 1000, Superstock 600, Moto America e una tappa nella Parigi Dakar. Grande Danilo, grande, grande, grande. A seguire Danilo abbiamo visto poi appunto Niccolò Bulega, Bautista, Iker Lucuona, quarto, colloso che è caduto e noi ci risentiamo poi domani per la sprint. Ciao!